oggi saliamo il monte resegone abbiamo raggiunto brumano in valimagna e dove troviamo un facile parcheggio presso la piazzetta Carlo Vitari da lì parte il sentiero 587 che porta al rifugio Reservo abbiamo salito nel 2012 l'ultima volta che c'era la neve oggi i prati sono in fiore ed è una bella giornata di sole insieme a tutti i prati sono in fiore ed è una bella giornata di sole insieme a tutti i prati sono in fiore ed è una bella giornata di sole insieme a tutti i prati sono in fiore ed è una bella giornata di sole insieme a tutti i prati sono in fiore ed è una bella giornata di sole insieme a tutti i prati sono in fiore ed è una bella giornata di sole insieme a tutti i prati sono in fiore ed è una bella giornata di sole insieme a tutti i prati sono in fiore ed è una bella giornata di sole in fiore ed è una bella giornata di sole raggiungiamo la punta Cermenati alle ore 11.20 La nebbia che grava sulla pianura lascia libero il cielo di Lecco e da quassù possiamo ammirare un grandioso panorama. Oggi poi è il compleanno di Rosa e ben felici la festeggiamo quassù. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.